Una meravigliosa location, il Billino Country House, il meglio di alloggi e della cucina tradizionale, in un antico casolare dell'Ottocento, unico per cerimonie e banchetti, con vicino uno splendido maneggio. Vi aspettiamo alla Country House, il Billino, di Treia, in provincia di Macerata, nelle Marche. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS